Si terrà dal 27 al 30 luglio in piazza De Marco Apertosa il primo torneo di street soccer organizzato dall'associazione US Pollese 1923 in collaborazione con il comune guidato dal sindaco Domenico Barba. Nato in Olanda lo street soccer è un tipo di calcio giocato essenzialmente all'aperto in una struttura delimitata con squadre che vanno dall'uno contro uno fino ad un massimo di quattro contro quattro. Apertosa si giocherà in squadre di tre contro tre. In questo tipo di sport si gioca senza portieri e il contatto fisico viene rigidamente punito dal direttore di gara. Il gioco si ferma solo in caso di falli, pertanto la palla rimane essenzialmente sempre attiva. Per segnare i giocatori devono avvalersi anche dell'aiuto delle sponde che delimitano la struttura rendendo il gioco veloce e coinvolgente. Lunedì 26 luglio si svolgerà la serata inaugurale con un momento di gioco dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni previsto alle 19. Dalle 21 poi si terrà una presentazione dell'iniziativa con le istituzioni. Come amministrazione dichiara il sindaco di Pertosa Domenico Barba Siamo davvero entusiasti di accogliere nella nostra piazza questa nuova e avvincente disciplina alternativa al calcio di tipo classico e al calcio a 5. L'idea è nata grazie all'incontro con l'associazione US Pollese 1923 che ne curerà l'organizzazione supportata dal nostro comune. Alla serata inaugurale saranno presenti oltre al sindaco Barba il primo cittadino di Polla Massimo Loviso il consigliere regionale presidente del Parco Nazionale dell'Accilento Valdodidiano Alburni Tommaso Pellegrino la fiduciaria del CONI Federica Mignoli il presidente della Fondazione Mida Francesca Antonio Doriglia che presenterà il progetto turistico di ampliamento dell'esposizione del Museo Spelli archeologico Oculus visori di realtà virtuale immersiva e il dirigente di Sporting C5 Ciro Manisera con i giocatori professionisti del calcio a 5 che parteciperanno alle partite iniziali di street soccer insieme ai piccoli giocatori le iscrizioni sono possibili fino al 25 luglio